In diretta, 21 e 16 minuti primi per la sesta puntata di Derby Sempre, buonasera da Emanuele Borgognone E da Cristiano Abbonizio, buonasera a tutti Buonasera caro Cristiano, e un saluto ovviamente va anche a Sandro in cabina di regia, ciao Sandro Ciao Tozzetti, perché ho detto dai partiamo carichi Partiamo carichi, partiamo carichi, orari improbabili, questo sarà uno dei temi di questa puntata di Derby Sempre, orari improbabili di campionato Perché mi fate giocare alle ore 18 la Lazio? Cioè spiegatemelo, per qual motivo alle ore 18? Di domenica, di domenica Anzi poi voglio ricordare ai nostri amici ascoltatori che ci sarà l'ora legale, per questo poi compaiono su tutte le applicazioni In realtà passiamo all'ora solare, se vogliamo proprio essere precisi Se vogliamo essere precisi, giusto, quindi mandare indietro le lancette di un'ora, giusto? Sì Ok, quindi se leggete 21 e 45 gioca il post-incio No, quello sei te che utilizzi applicazioni sconosciute sui tuoi tablet Allora, tanti argomenti ovviamente Noi stiamo, o meglio a Bonizio, sta cercando un pochino di divagare di quale sarà L'argomento principale di questa puntata ovviamente Guarda quanto sei contento La sconfitta di misura della Roma contro il Bayern Monaco Sfurti, sfurti E ovviamente poi anche l'argomento Lazio, perché la Lazio che centra a Firenze la terza vittoria consecutiva In casa con il Torino si proverà a raggiungere la quarta vittoria consecutiva Anche se io credo Non esagerare Una partita davvero difficile Perché È la stessa cosa che dicevi anche nell'altro Il Torino è una squadra molto, molto fastidiosa da incontrare E sottolineo il buon Ventura È anche molto fastidioso Sì Perché è una squadra ostica Io ricordo, a proposito di ostico Ricordo Guidolin che si offendeva a morte Quando uno gli diceva Sei ostico Non è vero, noi giochiamo sempre aperti Non mi sembra Senza probabilmente sapere il vero significato di questa parola Perché ci sono poi calciatori che sono stati intervistati Dio, no vabbè io Vabbè adesso non posso dire Non puoi dire Però mi hai capito bene Insomma, tanti argomenti per questa puntata di Derby sempre Noi però partiamo Andiamo e ci sentiamo la sigla Sigla Ritorniamo di nuovo in diretta sulle frequenze di We Want Radio Cristiano Abbonizio, Emanuele Borgognone, Sandro Tozzetti Abbiamo subito il primo collegamento telefonico Chi c'è in linea? Pronto? Ciao ragazzi Vi chiamo subito dal circolo romanistio nonni Siamo tutti quanti in terapia L'avete riconosciuto? Chi è? Chi è? Alessio De Simone Ciao Alessio Ciao cari, ciao Vi sono un attimino allontanato Perché sai stavamo facendo tutti quanti le presentazioni Ciao Sono Alessio Dico Roma Dai Sono nato nell'87 Eh vabbè Alessio detto questo Entriamo proprio nel vivo di questa trasmissione La sconfitta contro il Bayern Monaco da parte della Roma Secondo te che partita è stata e che cosa è successo? Prima però se permettimi Siccome Alessio ci ha mandato delle foto Che aveva scattato dallo stadio Perché lui è stato allo stadio Sì E che ovviamente ha anche pubblicato queste foto Alessio parola a te Allora ragazzi Vi dico subito che Io penso che ormai sono diventato una specie di veterano Cioè fra 20, 40, 50 anni Quando mi chiederanno Ma c'eri tu quella volta che la Roma? Io dovrò rispondere di sì E tra l'altro faccio un raggiuntamento secco Perché so già che Sandro mi verrà a riprendere Vi dico subito come è stata la partita Allora secondo me è stata letta male Non tanto da García forse quanto dai giocatori Nel senso che noi siamo arrivati troppo troppo carichi E probabilmente quando avverti così tanto La pressione delle sfide importanti Forse non abbiamo retto E quindi siamo proprio crollati subito Diciamo anche una cosa Scusate io poi parlo un po' a manetta Perché non riesco a sentire se mi state rispondendo Ma tu vai tranquillo Vai tranquillo Ok ok perfetto No dunque diciamo subito che In una partita che finisce setta 1 Sarebbe troppo facile dire Sono tutti da buttare al secchio Sì E non può essere così ovviamente Cioè nel senso Io vi dico però sicuramente una cosa Che non c'è sicuramente questa disparità Non ci può essere questo 7 a 1 Sicuramente il Bayern Monaco Se avessimo rigiocato altre dieci volte Avremmo sempre perso Non con questo risultato Sì Diciamo che io mi sento di condannare Soltanto un atleta in particolare Perché probabilmente è da lui Che si aspettava qualcosa in più E parlo di Ashley Cole Io so già che Sandro Ma adesso risponderà Probabilmente E' uscito dallo studio Sì Ti dico questo E addirittura Stiamo scherzando Sono qui Ma oggi sei fortunato Perché sei in compagnia Con questa opinione E quindi un po' Posso uccidervi tutti in radio No Alessio Sono leggermente d'accordo con te Perché effettivamente Da Ashley Cole Ci si aspetta qualcosa di più Anche perché poi lui E' stato comprato Proprio per questo Cioè per fare quel salto di qualità Soprattutto in una competizione Europea Come la Champions League E lui E' sembrato seriamente in difficoltà Soprattutto poi nei primi Minuti di gioco E' vero pure Che però Non c'era il raddoppio Su un giocatore importante Come Robben E lui stesso Lo chiamava Quindi lui Chiedeva aiuto E questo aiuto Non l'ha ricevuto Quindi responsabilità Ce l'ha Ashley Cole Anche se poi il primo gol E' stato qualcosa di stratosferico Perché il tutto è avvenuto Nel giro di 0,45 Millesimi di secondo Quindi complimenti A Robben Però si faceva Sorpassare Spesso e volentieri Da un giocatore come Robben Lasciava troppi metri di campo Soprattutto poi nell'occasione Del terzo gol Quando c'è stata Proprio quella Quella prateria Adesso non mi ricordo Manco terzo o quarto Perché ne abbiamo subito Talmente tanti Però dove Ashley Cole Era troppo distante Da Robben Ecco quindi Ha dimostrato Di avere dei limiti Probabilmente dovuti Anche come dice Emanuele Al fatto che si sta Un po' lasciando andare Anche per l'età E poi ti faccio parlare Ovviamente Cioè io Come dire Mi ascolto Sempre con grande attenzione Grande Estremizzando forse un po' Ma io Non è che devo Sai I giocatori sono Pagati anche per essere criticati Io ho sempre pensato Questa cosa E io Così come dico Di Close Che per me è un ex calciatore Io lo dico anche di Ashley Cole Ma dalla prima volta Che l'ho visto Per me è un ex calciatore Perché Quando arrivi a una certa età Il confine tra l'essere calciatore E l'essere ex calciatore È molto Molto Labile Ci vuole poco A barcare la soglia E a me sembra che Ashley Cole L'abbia barcata Proprio io lo vedo Come posizione Io sono molto Come dire Sono molto più portato Verso questa opinione Per me Ashley Cole È proprio un ex Tant'è Che si parla Di mercato Che andrà via Proprio per questo Perché per me è un ex calciatore Quindi ho spesso di più Questa Questa causa Allora guarda Scusate Rispondo subito Emanuele Allora Diciamo subito Che se Ashley Cole Pensava di andare A svernare Diciamo Gli ultimi rimastuti Della sua carriera In Italia Paragonandolo Al campionato Che ne so Di Abu Dhabi O comunque sia Di qualche altro stato Medio orientale Sicuramente Si sbaglia di grosso Io sono Abbastanza convinto Che non sia così Vi dico la verità Ashley Cole Probabilmente Non è quello Che abbiamo imparato A conoscere Negli anni passati Però vi dico anche una cosa E mi ricollego Un pochino A quello che ha detto Cristiano Su ogni pallone C'erano Almeno sempre Ogni volta Noi toccavamo palla C'erano tre giocatori Del Bayern Monaco Ogni volta Per 90 minuti Ragazzi Cioè nel senso Loro hanno giocato Dal primo Al novantesimo E non ci hanno mai avuto Un cano di tensione Si E' palentrota questa cosa Tra l'altro La cosa che a me Ha sorpreso molto Del Bayern Monaco A parte la Io credo che Proprio da un punto di vista Tattico A parte la forza Dei giocatori Ma ne parlavamo prima A microfoni spenti Io non ho mai visto Una squadra giocare Come ha giocato il Bayern Monaco Proprio da un punto di vista Tattico Io non ho mai visto Una squadra Con quella disposizione A un certo punto Ho pensato Ma non è che stiamo Rivedendo Una forma Riaggiornata Del WM Cioè dello schema Del 50 Perché io Non riuscivo Veramente A capire Come caspita Fossero messi in campo Ci ho messo un po' E poi alla fine Sotto e dallo stadio Visto che dallo stadio Si vede meglio Io ho ipotizzato Che fossero Con un 3-2-1-4 Guarda Emanuele Io ti rispondo In maniera molto franca Io ho avuto La fortuna Barra sfortuna Di vedere 6 degli 8 gol Segnare nella mia zona Io stavo Nei distinti sud Ed ero molto basso Quindi avevo Una ottima visuale Devo dirti la verità Io ti posso garantire Che ho visto Distintamente tutti Nel senso Che erano tutti quanti Dentro l'area Di rigore della Roma Ma questo nasce Non è una novità Nel senso Quando Guardiola Riesce ad azzeccare La partita Puoi essere la Roma Come può essere Anche il Real Madrid Ne parlavo proprio Con Sandro L'altra sera Cioè nel senso Anche il Real Madrid Ha perso in casa sua 6-2 Se non ricordo male Sì 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 Beh certo Cristiano Li confermi? 6-2 6-1 Sì Cosa del genere Una cosa del genere Comunque Guardate Se posso Vi racconto Anche qualche aneddoto Simpatico Dello stadio Non so se ho tempo Vai 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 Anzi È proprio quello Che cercavamo Allora guardi Innanzitutto Ti dico questa cosa Meravigliosa Praticamente Alla fine della partita C'era un ragazzino Di 16 anni Insomma Che stava letteralmente In lacrime Io un pochino Sai Quando uno è un pochino Più grande Cerca di tirare sul morale Alla truppa E gli ho detto Guarda Quando ci fu il 7-1 Di Manchester Io avevo 20 anni E malgrado tutto Mi sono laureato Cioè quindi Insomma C'è speranza Sempre per tutti È un dramma Che si può superare No ma Soprattutto Voglio sottolineare Soprattutto poi Questi Lazialotti Ogni volta poi ci prendono in giro Il giorno dopo Anche su Facebook Ma non solo loro Anche gli Juventini Eccetera Eccetera La traversa Che prese Bucinic Negli ultimissimi minuti Quindi c'era la speranza Di arrivare in semifinale C'era la gioia Soprattutto si parlava Di questa squadra Che in Europa Giocava benissimo Insieme all'Arsenan Erano le due squadre Giovani Che giocavano molto bene E forse C'era anche L'esaltazione C'era l'esaltazione Quindi un 7-1 Fu Tremendo Venne un po' Tremendo Venne un po' Sopravvalutata Quella squadra Poi ci ha buttato Ci ha buttato fuori Dalla Champions League Il problema è Che c'è La cosa buona Di quest'anno È che sì La sconfitta è bruttissima E mai vorrei perdere 7-1 Per carità Però insomma Siamo ancora lì Ce la possiamo tranquillamente Lottare Anzi Ti darà Anche la forza in più Per affrontare meglio Il campionato Per dire ragazzi Non sbagliamo in campionato Sennò qui veramente Rischiamo di brutto Quindi Potrebbe essere Un modo anche Per ritornare Con i famosi Piedi per terra E puntare Tutto sul campionato Potrebbe essere Una buona conseguenza E perché no Andare a fare anche Una buona partita Poi lì Perché non è detto Che vincono 7-1 In casa da noi E poi lì Ne perdi 14-0 Abbiamo visto Il CSK Mosca Ha perso Però se volete Regalarci Anche quest'altra prova In Europa Quello che dico sempre Non so se siete D'accordo con me Alessio L'importante è giocarle Io ripeto È stato un dramma Che per fortuna Non ho vissuto Quello di vedere La squadra Della Roma A giocare Una finale Di Coppa dei Campioni All'epoca Qui a Roma Però Viva Dio Noi abbiamo Giocato Ecco Abbiamo giocato Una finale Di Coppa dei Campioni E per fortuna Qualcuno L'ha vissuta Poi certo Siamo usciti I calci di rigore Però sempre meglio Di non vederle Insomma Queste partite Ragazzi Voglio raccontarvi Quest'ultima cosa Intanto Volevo dirvi Una cosa bellissima Che è stata la curva Perché comunque sia la curva Ha incitato i ragazzi Dal primo al novantesimo Non c'è stato un fischio Trapportamento assolutamente civile Anche con i tifosi del Bayern Persone veramente carinissime C'è stato anche il lancio Delle sciarpe Il scambio delle sciarpe C'è stato anche Tra le tifoserie Veramente questa cosa Mi ha stupito tantissimo Ma i tedeschi Sono sempre tranquilli Sì Ma anche noi Non ci sono stati mai fischi Alla fine si è cantato Vinceremo vinceremo il tricolore Insomma Questo sta a significare No guarda È stata una bellissima esperienza C'è bellissima È stata un'esperienza orribile Però quantomeno C'è stata una civiltà Oltre le linee secondo me E tra l'altro Il Mirror proprio Ha sottolineato Che la Roma Ha dimostrato Di avere una bellissima curva Proprio per questo Per questo motivo Insomma Tenere Assolutamente Tenere sempre Altun morale Scusa se ti interrompo Cristiano quanto hai rito Quando hai visto Tutti i commenti Degli Juventini E poi a distanza 24 ore Il silenzio Esatto E poi il silenzio Soprattutto su Facebook Tanto Tanto Questo però Identifica un fattore importante Che noi sottolineiamo sempre Qui a Derby sempre Ovvero che Le italiane Stanno ancora Tanti passi Tanti gradini indietro Rispetto Agli altri Agli altri Campionati Chilometri indietro Sicuramente noi ci sfottiamo Tra di noi Però stiamo perdendo Punti Posizioni Siamo dietro al Portogallo Questo ci fa capire Mentre una volta Eravamo nelle zone altissime Del ranking Alessio Alessio Grazie per il tuo contributo Grazie Alessio Grazie a voi E sentite Vi lascio con una domanda Ma siccome Ieri era giovedì Ma la Lazio Che ha fatto in Coppa UEFA Eh la Lazio In Coppa UEFA E dei bei tempi Ha visto un medico In famiglia 5 Buona serata Ciao Alessio Ciao ragazzi Ciao ciao Noi andiamo in pubblicità Tra poco Scaricate l'applicazione social Per ascoltarci dai vostri Smartphones Dai vostri Tablets Tablets Smartphones Dai vostri Oramai bisogna dirlo Anche dai vostri Smartwatch Perché Smartwatch Oppure Anche dai vostri Tozzetti Tos Le vostre Scambeldones Scambeldones Anche gli Scambeldones Allora Spazio Anche questa settimana Dedicato al calcio mercato Perché Perché noi Qui a Wivon Teredio Da tanti anni Possiamo dirlo Facciamo Supermercalcio Facciamo una trasmissione Di calcio mercato E noi ci Già da adesso Ci prepariamo Anche perché Sia a Roma che il Lazio Tanti spunti Li stanno dando E cominciando dai Biancocelesti Ovviamente La ricerca Del difensore centrale Ma dai Sia Zana Sia Sianisi Sia Novaretti Non danno garanzie Nomi Per ora All'orizzonte Ce ne sono pochi Per ora si parla Di Scharz Difensore del Basilea Molto interessante Anche molto giovane E ovviamente Di Balanta Che è quel colombiano Ne parlavamo già Qualche settimana fa Che aveva già interessato La Lazio E altre squadre Nella scorsa Campagna acquisti Quindi insomma La Lazio sta cercando Di rinforzare Prevalentemente La difesa In uscita A parte i soliti noti Per Erigna Quelle Gonzales Ancora vostro Gonzales Sì Gonzales Anzi Credo che tornerà Anche abbastanza Abbastanza Credo che tornerà utile Abbastanza tozzetti Come Abbastanza tozzetti Ottimo Penso Penso Più o meno Si dica così Perché Perché Il giocatore Ha capito Che qui a Roma Difficilmente Troverà Troverà Spazio Se prima Ha parlato Della possibilità Dell'uscita In caso ovviamente Uscisse Ci sarebbe un sostituto Però è Come dire Improbabile Che vada via A campionato in corso A meno che Da qui alla fine Non giochi mai Da qui a gennaio Per la Roma Per quanto riguarda La Roma Come giustamente Abbiamo detto Poco fa Bisogna sistemare Un pochino I terzini Perché Ejli Goal Per alcuni Non è all'altezza Di questa Roma Quindi Probabilmente Ci sarà un acquisto Si fanno tanti nomi Si parla del solito Santon Che la Roma Ha già cercato Quest'estate Si parla anche Di Darmian Però sono giocatori Che a mio avviso Costano non poco Cioè Darmian Per portarlo via Ci vogliono 8-9 milioni Credo Minimo Stessa cosa Per Davide Santon Tra l'altro Tra i due Preferisco Sicuramente Darmian Santon Si Un grandissimo Giocatore Che ha fatto bene Con l'Inter Tra l'altro In questo momento È infortunato Ha problemi Con il ginocchio Ancora non è sceso in campo Ecco Non vorrei spendere Troppi soldi Per andare a ricoprire Un ruolo Che magari Può essere tranquillamente Sostituito Dando fiducia Ad Agili Call Piuttosto che magari Provare altre Soluzioni Esatto E poi c'è sempre L'affare lì Al centrocampo Si parla sempre Di questo Giovane Centrocampista Francese Rabbiot Come al solito Dicono che è fatta È fatta È fatta Però staremo a vedere Quel che succederà Detto questo Ne facciamo un po' di pausa E poi torniamo di nuovo qui In diretta Sulle frequenze Allora Detto questo Tocca la Lazio È un bel momento Lazio Un bel momento Lazio Che Ecco c'è già una domanda Proprio Antonio Che ci scrive una considerazione Salute Antonio Giorgiovic È diventato Il nuovo Van Basten Sì però ragazzi No io voglio sottolineare un fattore Adesso non voglio Pavoneggiarmi troppo Però L'hai preso al fattacalcio Sì va bene Quando dico le cavolate Ogni volta mi insultate Perché dico le cavolate Quando io ho detto Dopo la prima partita Che questo giocatore Era molto molto interessante Da due o tre movimenti Poi adesso Dalla prossima settimana Segnerebbe più L'ho bruciato Però Dopo aver visto i suoi movimenti Ho detto Secondo me questo è un buon giocatore Sì E ragazzi Sta dimostrando di essere Veramente all'altezza Del nostro campionato italiano Non è Ibraimovic No Ovvio Non è Non lo so No certo Grande attaccante Non è immobile Non è immobile Assolutamente Però È un giocatore Utilissimo Non è Morata Non è Llorente Morata ancora tutto da vedere È un giocatore Morata mi piace molto È un Giocatore utile Sì Soprattutto Per il livello attuale Del campionato italiano Per quello che offre attualmente Il campionato italiano La Lazio tra l'altro Non ha neanche le coppe E Giorgio Viccio Il classico centravanti Stanno tornando di moda Oh I classici centravanti Quelli che il capello Bravo Schierava sempre In qualsiasi sua formazione Semplicemente per il fatto Che erano alti Per quello che sono alti Grossi Che stanno in aria Però ha anche delle buone qualità tecniche Oddio Non è che c'ha dei piedi fucilati Nello stop ha dei problemi Sì però nella tripletta Con il Palermo Ragazzi Ha dimostrato anche Di avere delle buone qualità tecniche Ovviamente È un giocatore alto Non è che può avere Tecnica eccezionale Soprattutto Nello stop a seguire Fa un po' di fatica Però Ce l'avrà I suoi difetti Soprattutto impegna la difesa Ed era Nell'epoca del falso nueve Tutti quanti Che giocano Con questi centrocampisti E via dicendo Lui invece È il classico centravanti Tra l'altro Anche Guardiola Si è convertito al centravanti Con Lewandowski Voglio dire Chi non si sarebbe D'altronde Non puoi fargli fare il falso nueve No Decisamente di no Punto Lazio Lazio che conquista A mio modesto parere Inaspettatamente La vittoria a Firenze Perché non me l'aspettavo Soprattutto non mi aspettavo Per come è venuta Perché sei scaramantico però Dai No 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 Non mi aspettavo Perché pensavo che a Firenze Potessimo Come dire Cadere nuova mila Ma loro come segnavano Con chi dovevano segnare Sai Il problema Valeva anche per noi Perché in realtà Noi è vero Abbiamo Djordjevic Ma La differenza per me L'ha fatta E ne sono convinto Il centrocampo In particolar modo Biglia Che è rientrato Dopo l'infortunio Ed è Il gol del vantaggio Della Lazio Nasce dal Per chi gioca alla Playstation Biglia Ha premuto triangolo Praticamente Il famoso passaggio Lungo In verticale Filtrante Filtrante Al volo Perché non ha stoppato La palla E lì è stata Praticamente Ha creato lui il gol Ma soprattutto Ha dettato i tempi Era quello che mancava La Lazio Il suo rientro Ha permesso proprio Che si ricominciasse A fare gioco Poi è chiaro Nel secondo tempo Abbiamo sofferto Perché comunque sia La Fiorentina ha spinto Con Marchetti Che non so perché Non ha giocato benissimo Ogni tanto qualche uscita A cavolo Non l'ho capito Però non è che La Fiorentina No no Abbia bombardato La porta della Lazio Ha creato quelle ovvie Due o tre occasioni Ripeto Io sto difendendo la Lazio La Lazio sta giocando benissimo Ottimo il suo campionato Anzi Mi ha stupito La sconfitta contro il Milan E qualche altro passo falso Con chi avete perso? 1-0 Con la Sampdoria Con l'Udinese in casa Ma era la prima partita Dopo i tanti infortuni Mi sono stupito di quello Perché secondo me Questa squadra Viaggerà molto molto bene Perché ha dei buoni elementi In campo Non ha una rosa A mio avviso lunghissima Però ha dei buoni elementi Per avere solo il campionato Ha dei buoni elementi Sì Il problema Cioè no Il problema Oddio che stavo dicendo? Eh non lo so Ti sei incartato Nel fare questa domanda Molto larga No perché non sono D'accordo sul fatto Che va bene la rosa Perché come Stavi dicendo Che la Fiorentina Ah la Fiorentina Esatto La Fiorentina comunque Non ha mai tirato in porta Ha delle mancanze Lì davanti È vero Cioè vogliono far passare Bernardeschi Babacar Come Gomez E Rossi Io vi dico Sì sono dei giocatori Interessanti Però non sono A quei livelli Però bisogna dire Che comunque sia La Fiorentina Ha avuto proprio problemi Soprattutto nel primo tempo Nello stare in campo Cioè Finché Si parla del fatto Che non riescono a segnare Sono d'accordo Però Qual è la forza La forza della Fiorentina È il centro campo Di giocatori tecnici Che tengono molto palla Ed è stata invece La Lazio Che ha imposto E questa è una cosa Che mi è piaciuta molto E che non è la prima volta Che accade Però ovviamente Con Biglia Accade molto più facilmente Perché nella trasferta Di Palermo Abbiamo avuto Molte più difficoltà Non è un caso Che anche con Il rientro di Biglia Nella gestione del pallone Non abbiamo subito gol Ora La Fiorentina Ha tirato poco Quello che volete Magari Sono anche stati sfortunati Perché lì sul tiro Di Alonso Al posto di prendere la porta Prendono Babacar Però Anche la gestione del pallone Con Biglia È tutta un'altra cosa Perché Come dire Addormenta i tempi Quando c'è da addormentare Esatto E velocizza Quando c'è da 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 Anche qui Tra l'altro L'anno scorso Secondo me è stato Un giocatore Valido L'anno scorso Non giocava a questi livelli Era purtroppo Sembrava Non so fuori forma Perché era molto lento In alcune circostanze L'anno scorso Se scusami Ti anticipo L'anno scorso Giocava Con un tecnico Che non valorizzava Le sue qualità Anzi Con due tecnici Perché è un giocatore Particolare Non è Un giocatore Che sta davanti Alla difesa È più un regista Assomiglia molto Proprio l'ho visto Con la Fiorentina È molto pisarro È un giovane pisarro Cioè ha quelle caratteristiche Sì poi I passaggi in modo semplice Il passaggio più vicino La Lazio è abituata Da sette anni Da otto anni A giocare con le Desma Che invece è Un tipo di giocatore Davanti alla difesa Che fa più lanci lunghi Verticalizzazioni Con Biglia Si fa più gioco corto E io credo che Voglio dire Con Pioli Biglia Abbia trovato La sua dimensione Poi non c'è niente da fare Io continuo a leggere Critiche su Parolo Per me è assolutamente Incomprensibile C'è un giocatore Che ha già segnato Diverse reti Due gol Nel campionato Esatto Ha segnato In campionato È il giocatore Della Serie A Con più passaggi Intercettati Prima della sosta Della Nazionale Avevo visto Questa statistica Sulla gazzetta Parolo è il giocatore Che ha recuperato Più palloni Di tutta la Serie A Quindi io credo che Classico lavoro oscuro La classica Mezzala Che fa il suo dovere Se consideriamo Che poi L'altro giocatore Che si alterna In Mediana Una volta è Lulic Una volta è Mauri Una volta è Onazzi Comunque si hanno tutti Fatto la loro figura Insomma Credo che sia Un buon risultato Sono molto contento Di vedere la Lazio Giocare così Mi dispiace Che la Lazio Non abbia Un difensore All'altezza Da affiancare a De Vrai O meglio Ce l'aveva Era gentile Questo ritorniamo Siamo sempre lì Un discorso Che ti ho detto io Secondo me La rosa è un po' corta Proprio per questo motivo Adesso non voglio portarvi male Ma semmai si dovesse far male De Vrai Andiamo in difficoltà È chiaro Parecchio in difficoltà Però sono anche Soddisfatto di Pioli Che è un allenatore Che senza fare clamore Si sta imponendo nelle scelte Perché Giocatori come Cavanda E Sianic Che non facevano parte Del progetto tecnico Della società Vengono presi in considerazione A scapito Di giocatori Come Conco E Novaretti Che invece Con la società Non hanno problemi Ci voleva poco Per tirar fuori Novaretti Da un punto di vista tecnico Hanno dimostrato Delle mancanze enormi Quindi da questo punto di vista Io sono contento anche di Pioli Che ha preso Cavanda Lo ha lanciato titolare E Cavanda Ha ripagato Il mister Con una serie di prestazioni Tutte positive Assolutamente inaspettate Rispetto a Conco Che ricordiamo Non me ne voglia Ma io lo ripeto Sempre la stessa cosa Ha fatto prendere due o tre gol Giocatori vengono pagati Per essere criticati La Lazio perde La partita di Genova E la partita colondinese Per colpa di Conco Che fa due errori Che fanno prendere alla Lazio Tra l'altro Messo fuori Rosa A questo punto Conco che ovviamente È diventata La riserva di Cavanda E probabilmente Rientra anche lui Nella vecchia tribuna Nel pacchetto Di giocatori Che dovrebbe Andare via Quindi insomma Considerando anche L'infortunio di Basta Che non si sa Quando rientrerà Speriamo che rientri Per la partita Contro il Verona Anche se la vedo Dura Perché il problema Al polpaccio Era serio per lui Poi ovviamente Ci sono tante cose Da migliorare Speriamo che la Lazio Possa Speriamo che la Lazio possa Recuperare Che età Un piccolo parere Sulla velocità di gioco Anche di che età Quando guida la macchina Che insomma Quando eravate Quando eravate Sullo 0-0 Facevate girare bene Il pallone Però eravate molto Prevedibili Soprattutto poi Nelle mosse d'attacco Quindi Credo fosse voluta Credo fosse voluta Perché Perché Diciamo Con quel tipo di gioco Come dire La Lazio impediva La Fiorentina Di ripartire Nel momento in cui C'è stato il bisogno Di velocizzare La Lazio ha velocizzato E ha trovato Anche la rete Io Il primo tempo Della Lazio È stato Incredibile Cioè incredibile È da tanto tempo Che uno non vede Io non vedevo La Lazio giocare così Fuori casa Con il pubblico Che fischia Perché la Lazio Continuava a tenere il pallone E noi glielo toglievano Quelli della Fiorentina Sono soddisfazioni Insomma Speriamo che si possa Continuare E che la Lazio Possa continuare A fare così bene Perché insomma È stata veramente Una soddisfazione Secondo me lo farà Ma intanto sentiamo In sottofondo Il secondo brano Di questa sera Suggerito dal buon Tazzetti Abbiamo ancora un minutino Per parlarci sopra Perché il nostro editore Che ci sta ascoltando Non ha fatto l'editing Come si chiama? No non è che non ha fatto l'editing Compra le versioni Ah quelle lunghissime Quelle lunghe Non quelle per la radio Qual è questa canzone? Difficile a individuare Allora se voi andate su Google E scrivete Tutto attaccato O Malleo Simpallao Perché giustamente Non sai precisamente Come si scrive Quindi O Malleo Simpallao Magari non conosci il titolo Della canzone Che poi è anche abbastanza banale O Malleo Simpallao E compare questa E compare questa canzone Ascoltiamola Tra 25 secondi Ah tra 25 secondi Scherzo Scherzo Andiamocela ad ascoltare Andiamocela ad ascoltare O Malleo Simpallao Qui sulle frequenze Di We Want Radio Scusate la pronuncia Perché non conosco bene Il portoghese Penso sia questo Il portoghese Qualcosa del genere Lo conosco molto bene Il portoghese In realtà Perché ho papà Che è nato lì a Lisbona Detto questo Caro Zio Borgo Tra qualche istante Ci metteremo in collegamento Con il super ospite Ma dovremmo avercelo anche Dovremmo anche avercelo Penso Antonio Cassano Ci sei? Antonio ci sei? Eccolo Eccolo Buonasera Antonio Grazie Antonio Ciao Antonio Ecco Antonio La prima domanda Che ti volevo fare No? Hai visto la Nazionale Qualche settimana fa Ecco La Nazionale si Ma cantanti Subito con la polemica Lui giustamente Subito 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 Assolutamente Per il buon Antonio Comunque sia Sta Nazionale Non ha giocato benissimo Possiamo dirlo Problemi loro Ma lo spiego così Se no Mi attaccano da tutte le parti Ebbè Giusto Hai ragione Anche se È vero Lui viene sempre messo Un po' nell'occhio del ciclo Sì Vieni spesso e volentieri Attaccato Ma inutilmente Insomma Poi Soprattutto con Le tue conferenze stampa Insomma Lasci tutti quanti a bocca aperta Però nonostante tutto Ti criticano Detto questo Cassano Non ti sei lasciato benissimo Con la Nazionale Ecco Forse Hai portato Un pochino Di Strascichi Al mondiale Se penso quello che dico Sai che cosa viene fuori Ebbè Ebbè Quindi Sicuramente ci sono stati problemi No? Per questo Non mi puoi rovinare la vita Quando sono qua Mi stai stressando la vita Ma posso vivere così? Vabbè Adesso neanche esagerare Cesta Abbiamo fatto delle domande Sulla Nazionale Sul tuo rapporto Ma tu pensavi di giocare Con la Nazionale? Se penso quello che dico Sai che cosa viene fuori? Ah Pensavo che Non giocavo Ah ecco Vedi Per lui si pensava Di non giocare Quindi Antonio Tu non te l'aspettavi Forse neanche più La convocazione cristiana Sì Voglio dire Non era mai stato chiamato Antonio prima Se mi confermi No? Non sei mai stato chiamato Da Prandelli Prima degli europei Sì Eh infatti Non è mai stato chiamato Quindi No Vabbè E ce ne siamo accorti Non sei stato chiamato E' vero Comunque Del Parma Che cosa ci dici Antonio? Eh che sta andando Molto male Sì Adesso che rispondo? Eh Eh Non so Dicelo tu Problemi loro Ma come? Scusa Ma ci giochi tu nel Parma? Un cassano scontroso Questa sera comunque Ma niente No niente È scontroso È diventato scontroso All'improvviso Io chiuderei anche qui La chiamata Perché veramente Andiamo avanti Ma no Non possiamo andare avanti E non ci rispondi Cioè il Parma Come pensi di risolvere il problema? Adesso che rispondo? Ancora Non lo so Se non ce lo dici Poi non lo so Vedo anche una sorta di Ma sono un po' Problemi anche tuoi? Problemi loro Problemi loro Ma non lo dico così Se no M'attaccano da tutte le parti Senti Antonio Volevo chiederti Quando poi c'erano Quei rumors Che dicevano Che nella vostra nazionale C'erano Qual è il problema? Non lo sappiamo Però dei gay Ecco Tu che cosa ne pensi? Se penso quello che dico Sai che cosa viene fuori? Andiamo in pausa Eccoci Eccoci Di nuovo in diretta Qui a derby sempre Con Emanuele Borgognone Cristiano Abbonizio Insomma Cristiano Noi ci volevamo scusare Anche con tutti quelli Che ci ascoltano da casa Qui sulle frequenze Di We Want Radio Perché ecco Ancora abbiamo Non vuole chiudere Ecco Vuole restare collegato Qui con noi Ha deciso questa sera Di disturbare Questa trasmissione Che ormai va in onda Da diverso tempo Antonio veramente Noi ti abbiamo contattato Antonio Cassano In onda Però continua a polimizzare Su tutto quanto Sì esatto Non so per esempio Non mi vuoi rovinare la vita Quando sono qua Mi stai stressando la vita Non posso vivere così con te io Capito ma tu sapevi Quali domande Noi ti facevamo Quindi insomma Potevi anche prepararti Un attimino Cioè ti abbiamo chiesto Quali sono i problemi Tu come ci hai risposto La nazionale Il Parma Eh niente Va bene Antonio Noi ti ringraziamo Grazie comunque Di essere intervenuto Per la prestazione Sei sicuramente Un grandissimo giocatore Al Parma stai dando tanto Però questa sera Non ti sei comportato molto bene Grazie Antonio Alla prossima Ecco E con queste polemiche Chiudiamo qui Questo piccolo siparietto Creato da noi Peccato Peccato Ti dispiace Anche perché io mi ero preparato No Un'altra domanda Proprio per Antonio Perché insomma Ci ricordiamo di due anni fa Delle polemiche Che scaturirono Dalle sue dichiarazioni Sul mondo omosessuale Insomma Ci furono tante polemiche E poi ci fu questa smentita Ecco Quale fu questa smentita Andiamo a leggere Mi dispiace sinceramente Che le mie dichiarazioni Abbiano acceso polemiche E proteste Fra le associazioni gay L'omofobia È un sentimento Che non mi appartiene Non volevo offendere nessuno E non voglio assolutamente Mettere in discussione La libertà sessuale Delle persone Ho solo detto Che è un problema Che non mi riguarda E non vi permetto Di esprimere giudizi Sulle scelte Di altri Che vanno tutte rispettate Ecco La domanda che io faccio A voi qui in studio Emanuele L'hai scritto Perché insomma Io qualche dubbio Ce l'ho Come quattro giorni prima Però non c'è risposta Parlavo un pochino Con quel dialetto barese Accentuato E poi quando va a scrivere Qualche ora prima E qualche ora prima E poi quando va a scrivere In realtà è così bravo Perché c'è la lingua scritta La lingua parlata Hai ragione Potrebbe essere Allo scritto va bene Allora le va male Questo è il problema Grazie Grazie Antonio Grazie Antonio Abbiamo detto anche Quello che ci hai detto poco fa Abbiamo ringraziato Per il suo intervento Proiettiamoci Verso le prossime partite C'è un Lazio-Torino Di domenica alle 18 L'abbiamo detto In apertura Anzi andiamo a dare un po' Tutte le partite Che ci saranno In apertura Di 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 questa Giornata Tutte le partite Proprio della Che sono previste Per questa ottava giornata Di campionato Di Serie A Alle ore 15 Di sabato Empoli-Cagliari Perché Perché fate giocare Empoli-Cagliari Non è Pasqua Non è Pasqua Nel Natale Perché alle 15 Di sabato Tu cosa fai Alle 15 Di sabato Mi gratto la panza In maniera molto sensuale Però in compenso Alle 18 Abbiamo Parma-Sassuolo Che cos'è che spinge Dei Non lo so Degli amanti del calcio A seguire una partita Alle ore 15 Come Empoli-Cagliari Fosse una partita interessante Empoli-Cagliari Interessante per chi ti fa Empoli-Cagliari L'Empoli gioca anche bene Però perché alle 15 Val di Fiori Un ottimo giocatore Però perché alle 15 Esatto Poi alle 18 Parma-Sassuolo Poi alle 20 E 45 C'è Sampdoria-Roma Ne parleremo tra poco Poi domenica Non c'è Alle 12 E 30 La partita L'hanno tolta L'hanno tolta Non si sa Abbolita Quindi ce ne sono diverse Alle 15 Anzi ben 3 Alle ore 15 Perché ci sono Udinese-Atalanta Chievo-Genoa E Juventus-Palermo Alle 15 E poi si passa Alle 18 Di domenica In cui giocherà La Lazio Contro il Torino Giocherà il Napoli Contro l'Ellas-Verona E il Cesena Contro l'Inter Ma perché alle 18 Perché hanno giocato In Europa League Ma alle 18 Che cosa cambia Che cambiano per tre ore Esatto Giocare alle 18 Problemi loro Dice Cassano Però oggettivamente E poi c'è il posticipo Milan-Fiorentina Alle 20.45 Che interesserà Il nostro editore Sì Insomma io Che significato Può avere Noi lo sappiamo Noi polemizziamo Come ha fatto il buon Antonio Cassano Poco fa Perché effettivamente Questo campionato Spezzatino Senza alcun senso Ci infastidisce Particolarmente Soprattutto poi Per chi lavora Magari il fine settimana Chi ha altri impegni Quindi spostare un pochino Quella che poi È l'abitudine Degli italiani Penso un po' Come vado Come vado proprio Nel toccare Il tasto dolente Adesso non esageriamo Per non parlare Del Monday Night Poi ragazzi Abbiamo preso Quest'abitudine Che negli altri sport È l'evento culminante Ecco Perché E noi lo facciamo Con Avellino Cuve Stab No Diciamo Chi la guarda Lunedì sera Mettiamo i pipponi Scara Genoa Che cosa è stato Genoa-Empoli Che hanno giocato Genoa-Empoli 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 Lunedì sera Ma chi la guarda In Giappone La vedono così Sì Bisogna dire Che questi posticipi Sono fatti Per il mercato asiatico Ho capito Ma Genoa-Empoli Quella è la cosa Cioè magari Dici Mettiamoci Le squadre importanti C'è da dire Che giocando in Europa Se ne facevi giocare Il lunedì Ah poi Siamo penalizzati Perché giochiamo Tre partite In sei giorni Non sai come sono Qui in Italia Non è Questi sono i tanti Sono problemi loro Detto questo Parliamo seriamente Un pochino Di quello che succederà Poi sabato e domenica prossima La Roma affronterà La Sampedoria Una Sampedoria Che si presenta Come al solito Con il suo grandissimo presidente Che è un pochino Il soggettore di turno Una persona tranquilla Il soggettore di turno Lasciatemelo dire Un po' un attore Un po' il comico Tra l'altro Grandissimo tifoso della Roma Quindi appunto Per questo ci purgerà Perché è la classica cosa Io sono tifoso della Roma Però ha detto Una cosa un po' fastidiosa Io gliene faccio tre Alla Roma Con il suo solito Vabbè Un tweet Sì un tweet Assolutamente Però questo per dire Che questa Sampedoria Adesso non so Se sia Anche dovuta Alla fortuna Una botta di fortuna Perché io non so Questo presidente Quanto Quanto possa Essere bravo E competente Nel calcio Io non so Se lui ci fa O ci è Perché se ci fa Non mi toccare Ferrero Un mito assoluto Del calcio Attenzione Se ci fa È un genio Niente È un genio Il solito Leonardo Ci smentisce Immediatamente Ci purga Ci castiga Genoa Empoli Si è giocata Di lunedì Per via dell'alluvione Hanno dovuto ripulire lo stadio Facciamo mea colpa Scusate Ma perché noi abbiamo Antonio Leonardo Per correggere Questi errori Clamorosi Scusate Che noi facciamo Di disinformazione Un applauso Da Antonio Avete ragione Non c'è Assolutamente pensare Grande Antonio Grazie per non farci fare Figuracce Come io Non le facciamo Ma almeno possiamo Correggerci Comunque Comunque C'ha senso Comunque C'ha senso Vediamo giocare Un altro giorno E soprattutto Voglio vedere Lunedì prossimo Quale sarà La grandissima partita Quindi insomma Ecco esatto Comunque Ringraziamo il buon Antonio Leonardo Detto questo Non so se ci fa O ci è Questo presidente Non so quanto sia Competente Però una cosa è certa Dà tanta passione Ai propri tifosi Che vengono allo stadio Seguono questa squadra E vuole in un certo senso Far ritornare la Sampdoria Degli anni 90 Quindi rivivere quei momenti In questo momento Ci sta riuscendo Scusate il gioco di parole Perché c'è un ottimo allenatore Perché Mialovic È un grandissimo allenatore Su questo ci metto la mano sul fuoco Ha degli ottimi interpreti Quindi ha dei bravissimi calciatori Giovani Ma anche di esperienza E quindi una Sampdoria Che è lanciatissima E la Roma Se la giocherà In un momento difficile Perché comunque esce fuori Da questo 7 a 1 Hanno loro dell'assenza Soprattutto in difesa Perché se non sbaglio Sono out due giocatori Sia Castaldello Che lo stesso Silvestre Quindi la Roma Un po' per scelta Anche Castaldello Io leggevo le probabili formazioni Esatto Prevedevano un recupero di Silvestre Con Romagnoli Centralmente Anche se non era detto Però Castaldello Viene messo un po' fuori Per Silvestre Ultimamente Senza motivo Quindi Mi permetto di dire Vedremo A tanto Romagnoli poi gioca Che fai No ma Romagnoli è forte Il problema è perché Far giocare Silvestre E non Castaldello Tra l'altro Mi sembrano di due categorie Differenti Però perché lui È il classico allenatore Che poi ha le sue fisse Cioè tu dirai Perché metti Okakasuka Quando c'è Bergessio Che è il signor giocatore Kakasuka sta dimostrando E lui vuole fare la stessa cosa Con Silvestre Quindi chi meglio di lui Può conoscere questi giocatori Detto questo Una Roma che Adotterà la stessa formazione Più o meno Della partita Contro il Bayern Monaco Perché Squadra che vince Non si cambia Esatto Squadra che vince Non si cambia Perché Visto che Totti Comunque ha giocato solo mezzo tempo Giocherà quasi sicuramente Anche contro la Sampedoria Ci sarà Gervinio Probabilmente Al posto di Turbe Perché non sta ancora tanto bene Florenzi Ci sarà Il buon Florenzi In difesa Ci sarà Astori Olebas Sostituito per forza Perché Ashley Wall È qualcosa di Inguardabile In questo momento Quindi gioca Olebas Sì E poi i centrocampisti E Torositis Credo Perché Maicon Non sta bene Quindi ci sarà Pianic De Rossi E Nengolan A centrocampo Dall'altra parte La Sampedoria Si schiererà con un 4-3-3 Con Romero De Silvestri Silvestre Romagnoli Regini A centrocampo Soriano Palombo Obianco Così anticipo un pochino Le probabili formazioni In attacco Giocatori che mi preoccupano Particolarmente Perché c'è Gabbiadini Che è molto molto forte Un giocatore che io stimo tantissimo Ha dei piedi Educati E soprattutto È molto bravo Poi nei calci Nei calci piazzati Okakaciuca Che è un signor giocatore Quest'anno lo sta dimostrando E vedendo Giallo-Rosso Magari potrebbe Ancora di più Ricordiamo l'ultimo Guardio Kaka Fatto con la maglietta Della Roma Con il tacco Gol di tacco Col piede sbagliato Su assist di Pitt E poi tutti quanti via Perché Okakaciuca Poi andò al Fulham E Pitt Ritornò in Romania O dove E poi c'è Che dà molta Molta velocità E anche cambio di gioco Quindi Diciamo la Roma può Cercare di Se vogliamo fare Un piccolo paragone Quando la Roma Perse 7-1 Con il Manchester United Tornò in campionato Vince 4-0 Contro la Sampdoria Proprio Però all'Olimpico Però all'Olimpico Speriamo bene Accada anche Quest'oggi Perché non possiamo Assolutamente perdere punti Contro una Juventus Che sembra lanciatissima Che però ha perso Ha pareggiato Contro il Sassuolo E quindi È a sola È a soli A solo? Un punto A soli Un punto A solo 2-11 in diretta Qui su We Want Radio Con derby sempre Emanuele Borgognone Cristiano Bonizio Sandro Tuzzetti Il salvifico Antonio Leonardi Da casa Davide Smaldone Anche Si Ci sta ascoltando Che ci sta ascoltando Il supervisore numero uno Grande Davide Smaldone Grande Davide E Vogliamo ricordare anche i numeri Perché volendo Ormai è tardi Perché stiamo concludendo La trasmissione Però voi Potete inviarci I vostri sms 388-6409-278 Potete farlo anche Quando noi non ci siamo In diretta Magari li leggeremo Poi la settimana prossima Anche quando Risentite le repliche Perché noi abbiamo Delle repliche Nel corso di questa settimana Una Giustamente Emanuele mi fa notare Con il suo gesto Quindi non ci siamo più Il sabato Sì ci siamo Domani alle ore 16 Ok E quindi Permettimi di dire Che l'ora legale E l'ora solare Non c'entrano nulla In questo tuo Non c'entrano nulla In questo mio Ok Quindi domani alle 16 Domani alle 16 Domani alle 16 Perfetto Detto questo Buon Emanuele Borgognone Dici le probabili Viocciola Wewantradio.it Se avete dei suggerimenti E via diciamo Probabili formazione Lazio Lazio che ha avuto a che fare Questa settimana Con una serie di problemi fisici Perché gira a formello Un virus Per fortuna Non è il virus Che sta un pochino Imperversando Ovunque Ma Gira una brutta tonsillite Una brutta tonsillite Che ha colpito Mauri E che lo ha messo fuori uso Addirittura Ha ricoverato in ospedale E Emanuele ha trovato Una soluzione Che non possiamo dire Perché è una nota marca Però poco fa Ha detto che vuole spendere Intorno ai 100-150 euro Giustamente Chi guadagna bene Può farlo Perché hanno trovato Un rimedio Alle placche C'è questo fantastico Farmacista privato Che tra l'altro Non ha preso il brevetto E non so come Ha guadagnato questa laurea Che ha inventato Questa laurea Questo Adesso mettiamo In discussione La laurea Perché ha creato Questo colluttorio Ha brevettato Questo colluttorio A due fasi Che riesce a eliminare Molti problemi Esatto Tipo quando togli I nei Anzi no I brufoli Sulla faccia Che c'è lo scrub È come se fosse la crema Pre e dopo trattamento Esatto Ecco la stessa cosa È colluttorio Metti in bocca Un liquido verde Poi metti in bocca Il liquido bianco E la laurea dice Che è proprio Una sensazione fantastica Metti in bocca Il liquido bianco Sei un attimino calato E quindi vedremo Poi se effettivamente Succederà questo Anche a Mauri C'è la tonsillite Che ha colpito Mauri Che ha colpito Anche Candreva Che stava per colpire Lulic Allora Mauri Addirittura è stato Ricoperato in ospedale Perché l'hanno capito Leggermente tardi Che aveva Un problema serio E quindi è stato Costretto e salterà La partita contro il Torino Perché ha dovuto Prendere degli antibiotici Adesso sta meglio E quindi non potrà Giocare contro il Torino Candreva sembrerebbe Essere recuperato L'hanno preso in tempo E anche Lulic Sembrerebbe che l'abbiano Curato in tempo In realtà Lulic Ha avuto più un problema Ha avuto più un problema Di Ma sai quelle Sono quelle tipiche cose Che accadono Nelle squadre di calcio Che prende uno la febbre E poi la prendono in 3-4 E c'è l'emergenza Di solito accade Verso gennaio-febbraio Noi Nella nostra buona sorte Di quest'anno Tra infortuni vari È capitato a fine ottobre Comunque sia A parte questo La Lazio Quindi Dovrà far fronte A queste Assenze O comunque sia Giocatori non in perfetta forma Io penso a Candreva Che non credo Sarà al meglio La partita col Torino È molto dura Lo dicevamo prima E quindi io penso Che dovremmo scendere in campo Con il 4-3-3 Con Marchetti Trepali Cavanda Devrai Zana Al rientro della squalifica E Radu In difesa A centrocampo Onazzi Biglia E Parolo Con in attacco Candreva Se riesce a recuperare Se riesce a recuperare del tutto Giorgiovic Ovviamente E Lulic Che è ancora fuori Felipe Anderson È pronto a entrare Qualora Candreva Non stesse benissimo Ma comunque sia Ci sono state tante assenze A causa Infortuni Comunque sia Situazione fisica Non ottimale Per giocare una partita Il Torino Lo sappiamo Verrà qui Con il 3-5-2 Si presume Che rientrerà In difesa Glick Che ha scontato Un turno di squalifica Per le proteste Nella partita Non so se ti ricordi Era stato espulso O meglio Era stato squalificato Nel post partita Poi hanno scontato Un turno di Disqualifica Per cui Gile In porta Maximovic Glick E Moretti In difesa Darmian Vives Il Caduri Sanchez Migno E Peres A centrocampo Con Quagliarella E Amauri In attacco Dovrebbe essere questa La formazione Poi si sa Avendo giocato In Europa League Potrebbe cambiare formazione Molinaro Problema fisico Molinaro Per la gioia Di chi ce l'ha Al fantacalcio Cioè me Non è più titolare A scapito Molto 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 bene A scapito Di Perez Anche a me Mi ha preso appositamente Al fantacalcio Quando giocava con la Juventus Cioè a me piaceva tantissimo Ma l'anno scorso Ha fatto sei mesi a Parma Straordinari Rubando il posto a Coppi Quindi voglio dire Però Troverà il suo spazio Molinaro Ha giocato in Europa League Ha segnato anche In Europa League Ma poi crossa bene Veramente Al giorno d'oggi è difficile Trovare un terzino decente No nel 3-5-2 è perfetto Perché È difficile trovare un terzino decente Al giorno d'oggi Si contano veramente Sulla punta delle dita Sì lui non è Tecnicamente straordinario Però sa costare bene Esatto Che è quella caratteristica Che ha anche Pepe Esatto Della Juventus Io non so se Sandro Sei d'accordo Sì C'è Pepe Che ha questa cosa Non riesce a stoppare la palla È scazzo però crossa Vabbè che oramai sono tre anni Purtroppo che non gioca Pepe non riesce a stoppare la palla Adesso parte con le battute Sale Pepe Vai con le battute Quale? Sale Pepe Si scalda acqua fresca Sale grosso Sale grosso Si scalda acqua fresca No Si scalda acqua fresca E si butta maccarona Maccarona Vabbè Detto questo Detto questo No Pepe fa bene i cross Esatto E rientra Al volo Tra quella Categoria Quei giocatori Tra cui rientra anche Pasquale Per esempio Che sanno effettuare Dei buoni cross Esatto E anche Ole basso un pochino Vabbè Detto questo Siamo quasi giunti al termine Di questa puntata Andiamo subito con i saluti Ringraziamo il fantastico Antonio Leonardi Ma si merita un applauso Si merita un applauso Scusa se ti rompiamo Sandro Applauso Aspettiamo Aspettiamo Pensate Emanuele aveva detto Tra le probabili formazioni Scenderà in campo In attacco del Napoli Maradona E giustamente poi Antonio Leonardi Ha detto no Maradona ha lasciato il calcio No non è proprio così Grazie a Antonio Grazie a Antonio Grazie a Sandro Tozzetti In cabina di regia Viva me Viva me Grazie Sandro Grazie a Cristiana Bonizio Grazie a te A me medesimo L'appuntamento Con Derby sempre Alla prossima settimana Mi raccomando Halloween E vi dico soltanto Halloween Preparatevi Ci sarà uno speciale Qui su Puponte Radio Poi arriveremo noi La sera A rovinare tutto Però insomma Con la zucca Portiamo una zucca E la piazziamo qui al centro Basta la tua presenza E quel maione Per fare una zucca La replica Domani alle ore 16 Ricordiamo che Derby sempre Trasmette passione Ciao 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 Ciao